Allora, lui tre vittorie, io una. Siamo sicuri? Quindi questa è la quinta. È la quinta. E se tu dovessi arrivare a otto vittorie, avresti vinto. Perfetto. Sappiamo dove dobbiamo andare, cari ragazzi del Team Raiders. Perché noi del Team Senior ce ne fotte sega, giusto? Relativamente. No, e l'importante è la sportività e tutto quello che si fa. Perché tocca subito a te? Che è? Sti favorismi? Ah, la puttana di Tomasini, sì, 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 sì. Nella mappa di Splork gli hanno dato, cioè. Che schifo l'ho fatto, mamma mia. L'ho fatto proprio schifo. Questo è proprio... Ho fatto bene soltanto il primo tiro, ma poi è andata molto molto meglio. Non la prendo, ragazzi. Cioè, da una parte l'ho presa proprio bene bene. Ragazzi, c'è... Buon! Ben tornati su... Questa è sul server. È una partita agguerritissima questa, già da... Però va bene. Uuu! Io oggi è meglio che non gioco. Perché oggi è veramente triste per Nicola. Team Synergo! Oggi è una... Da Cristina D'Avena in concerto! Bene. Allora, dobbiamo giocare in qualche modo... Andatevi a rivedere prima di tutto tutte le partite, perché ci sono state bellissime partite. Senza dubbio, io non mi ricordo nulla. Sì. 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 70.000 punti il primo tiro e per me sempre rimane culo, eh! Ciò non toglie che quel tiro lì l'ha guidato un arcangelo, perché se... Sono 3 e 3.6. C'è una festa estrema in ballo che potrebbe ribaltare tutto, oppure no. A meno che Synergo non fa un meno 25. Ma tanto, come stanno andando le cose? Quella putt... È giusto che sia così, eh! Guarda quel verde, guarda quel verde. A te fa un macello, no? Nooo! Synergo, secondo me, adesso fa una cazzata, eh! Synergo non vuole fare cazzate. Però ci ha cagato un cazzo, però Synergo, eh! Synergo ha capito che deve essere... Non prendo questo, non prendo questo... Da una parte la prendo, però. È sempre quello, è il punto, voglio di... Perché prenderlo è una filosofia di vita. No! Mamma mia! Mamma mia! Ma porca troia, daia! Eh... È un cordello, ragazzi. Difficile... Calcolare questi diritti qua del cazzo, sì! Ma voi vi rendete conto? Scusa, eh! Perché oggi mi sa che qualcuno... Potevo prendere il verde... Ma vaffanculo! Aveva andato molto bene, ci potevo prendere il verde. Eh... Qui... Ecco, che devo fare io? Io non butterei qua, qualcosa succederebbe. Per favore! Per favore! Madonna! Però cazzo stai a 129 mila! Vabbè, t'ho doppiato. Niente di grave, eh! Eh, ma se... Se l'ultimo tiro non andava come doveva... Per me non è andato come doveva. Quello doveva andare nel nulla cosmico. Invece ha preso tutto quello... Eh, che panni! Giovani amici! Ok. E ci abbiamo un piccolo regolo. Dobbiamo recuperare 60.000 in rotti punti? Ho preso anche io le chele. Abbiamo tutti e due le chele. Eh, ci faccio... Siamo lì dove non batte... Ges... Gesualda! Eh, dai! Madonna! Madonna! Che lisciazza! Questi sono quei tiri... Nonno, che cazzo di contiplicata che fai? E poi? Porco due! Siamo pari, eh! Non è che... Eh, ma sì, ma il problema è la guerra! Non è questo! Ma non la battaglia! Puoi vincere la battaglia, ma non la bottiglia! Ah, 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 ah! Che meravig... Cuno! Ma là c'era un trisom, eh! Però mi pare di capire... No! Madonna! Ma tu ti rendi conto di quando stai sculando? Ma no! Ma tu fai i tiri miei, piano piano, piano! Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Perché sculando? Ma vaffanculo! Pure la festa estrema! Ma dai! Ma dai! Aspettate, ma questa... Però questa la devo fare bene perché... Ma vaffanculo, va! Cioè, ogni punto che prende sono... Ogni palla che prende sono mille punti! Hai fatto un devasto, hai fatto! No, 60, non è così tanto! Ma porca troia, no! Ma che cazzo c'hai oggi? Mi ha detto, ah, giochiamo, dai, eh! Siamo stanchi, sai! Meno male, vai il culo, eh! Ma non sto tirando con aggressività! Ma forse è quello il segreto! No, vaffanculo! Perché tirare con aggressività, secondo me, rovina il karma della partita! È anche una cosa antisposita! Una sola ce n'era lì, eh! L'ho presa! Eh, però, ma tu ho aperto una... Ma non, non... Cioè, non... È una via di Damasco quella, hai capito? È una via di Damasco, no! La via Damasco! Te lo provo, eh! Flipp, è il delfino delfino! Dove marine? Mannaggia satana! Dai, cazzo! Qua fa un macello, guarda là! Gli ho aperto culo fino alla terza, ma... Ma guarda che culo! Sì! Ma che cazzo di culo c'hai oggi? Ma che cazzo di culo c'hai? È capitato là, non è che... Ma mai affaringiulo, vai! È risalito dalla palla! Eh, qua non... È impossibile! Perché non si apre... Ma è tipo l'allineamento dei pianeti, è una cosa... Potà sta zitta! Ma... Secondo me... Questa è la soluzione! No... Questa è la soluzione! Da qua, da qua, da qua, da qua, da qua! Eh, addio... Vabbè dai... Ho mancato la cosa astra... La congiunzione astrale... E mai... No, 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 no! No... Pucca broia... Broi! Boom! Boom bitch! Boom! Super 100! Cioè, ragazzi, mi ha massacrato! Pam, pam, pam! Mi ha massacrato! E il mio personaggio preferito torna a fare punti! Eccezionale questa gara! Bellissima! Stupenda! Uè, però! Provo a fare un rimbalzino carino carino, eh! Perché tutto ciò? Dovevo provare a fare il rimbalzo sul... Ragazzi, ci facciamo due feste estreme, noi ho detto in Sinergo... Eh, ma questa è... E poi... 5.000... Porca puttana di una puttana! Siamo risaliti in vantaggio e forse abbiamo vinto pure! Però c'è la terza, la terza! Mamma mia che partita è entusiasmata! Abbiamo già fatto la terza! Si è venuto allora! Si! Ma era che è stata una partita entusiasmata! Mi sono entusiasmato, eh! È stata una gran bella partita! Allora, meglio di 15 e la quinta la vince Sinergo! E noi ci vediamo, ragazzi, alla prossima! Che culo di merda però, eh! Bella partita, comunque! Complimenti! L'ultimo tiro notevole!